Il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, questa mattina ha Pescara presentato il disegno di legge a sua prima firma sulla riforma della decisione pubblica e il procedimento amministrativo. All'evento informativo con la stampa hanno partecipato anche in via telematica il professor Giacinto della Cananea, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano, il professor Salvatore Cimini, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Teramo e la senatrice Valeria Valente, relatrice in Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge. Ci sono quattro elementi innovativi per questo disegno di legge a mia prima firma concernente la riforma della decisione pubblica del procedimento amministrativo. Uno, come si accede alla pubblica amministrazione. A parte la lunga collana di Sant'Antonio riguardante i tempi di un concorso pubblico si accede alla pubblica amministrazione a tempo esaltando il profilo curriculare, le attività fatte nel pubblico e nel privato e anche nell'università e attraverso questa comparazione di curriculum sul piano delle esperienze fatte poi si fa un colloquio e si accede a tempo nella pubblica amministrazione. L'oralità amministrativa entra all'interno della struttura della decisione, come è giusto che sia e come accade nelle tradizioni tedesche, come accade nella tradizione della regione urbana di Bruxelles. Io imprenditore vado a parlare col sindaco, quel colloquio radica un procedimento decisionale. Su questo in Italia eravamo all'anno zero, dobbiamo insediare questa rivoluzione che è anche culturale. I fondi del recovery, se non avranno questo allineamento modernizzato del rapporto tra il procedimento amministrativo e le risorse finanziarie, non produrranno risultati. Non nasceranno le trasformazioni strutturali e infrastrutturali che l'economia si attende per rendere l'Italia competitiva sul piano internazionale. Noi abbiamo 70 mesi per individuare nel dettaglio i progetti, per attivare le procedure, per cantierare scegliendo i contraenti, per mettere in esecuzione produttiva i cantieri, per fare le contabilità e per fare le rendicontazioni. In 70 mesi 209 miliardi di euro con questa dotazione normativa non ce la faremo. Ecco perché mi sono fatto carico di fare questa proposta.